Questa settimana si vola a Roma per l'Italian Challenge Tour Eneos Motor Oil. Si sentono già erugiti dal campo, i più forti giocatori europei hanno invaso la capitale. Terre dei Consoli presenta un percorso da urlo, lungo, mosso e difficile, ma gli sui in questa settimana sono d'autore ed i big si affronteranno su quattro giorni sotto il sole di piena estate. La Pro Amoggi ha unito amici e professionisti in una gara divertente dove i green veloci hanno fatto impazzire i pat di tutti. È l'occasione per ricevere qualche buon consiglio e capire quanto i campi da tour siano all'altezza della situazione. Domani T-Time dall'alba, per sconfiggere i 38 gradi e per mettere un gioco fluido a tutti i 156 partecipanti. La Porta, l'Iparelli, i Vecchi, Fossa sono solo alcuni dei nostri azzurri che proveranno l'attacco al trofeo italiano. Abbiamo voglia di Italia in alta classifica, i nostri portacolori sorridono e sembrano pronti per la sfida. Noi siamo qua, con il paesaggio dalla nostra parte e con i giovani golfisti più in forma di tutto il Challenge Tour. Swing Your Life! Swing Your Life! Swing Your Life!